Vaiont, 60 anni dopo, oggi la commemorazione per il disastro che costò la vita a quasi 2000 persone, sui luoghi della tragedia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un tormento che interroga le coscienze. A Treviso la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore scoperto a investire in borsa la cifra di 25 mila euro ottenuti grazie al decreto liquidità, un provvedimento pensato all'epoca per aiutare le aziende in difficoltà per il covid. Migranti nell'hangare in comina a Pordenone, consiglieri comunali denunciano una situazione di degrado, la replica del comune, abbiamo dato un rifugio a chi dormiva per strada. Rilancio della pesca, il flag veneziano punta oltre 3 milioni di euro provenienti dai fondi europei per il comparto. Oggi la presentazione a Portogruaro nella sede del Vegal, tra i soci dell'ente anche comune di Venezia e città metropolitana. 60 anni sono passati dalla tragedia del Vaillant, ben ritrovati con il telegiornale di Media24. Oggi le commemorazioni alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, in una giornata che ricorda quasi 2000 vittime. Partiamo da qui il primo servizio, Tania Pellegrini. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963. In un istante la vita di chi abitava i territori tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto cambiò per sempre. Un'enorme frana scivolò dalle pendici settentrionali del Monte Toc ad una velocità di 108 chilometri orari e crollò sul bacino d'acqua sottostante creato dalla diga del Vaillant. I 270 milioni di metri cubi di roccia provocarono un'onda che portò con sé morte ed esolazione. L'acqua risalì versante opposto della montagna distruggendo i paesi di Erto e Casso e superò il confine della diga riversandosi nella Valle del Piave, travolgendo quasi interamente il comune di Longarone e i territori limitrofi. 1917 furono le vite spezzate dalla tragedia, di cui 470 i bambini. Numeri approssimativi perché molte salme non furono mai recuperate. Oltre 800 sono infatti ancora i corpi senza nome di chi non è sopravvissuto al disastro, per cui la prefettura di Pordenone ha annunciato l'avvio di un progetto che ha l'obiettivo di identificare i resti di queste persone. Per il sessantesimo anniversario oggi si è recato sul luogo della tragedia anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre ai Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Sono qui oggi per commemorare insieme a voi tutti la sessantesima ricorrenza di quello che un documento ONU, in occasione dell'Anno Internazionale della Terra del 2008, ha descritto come il più grave disastro ambientale della storia causato dall'uomo. Quello che è certo è che da quello ormai lontano, 1963, non si è più smesso di studiare e approfondire quanto accaduto nell'Alta Varcellina e nelle vicine Valle del Piave. Intervengo in un momento non facile per la nostra comunità. Non lo è perché dopo 60 anni mi sento anche la responsabilità di chi non c'era quando è accaduto quello che è accaduto, ma anche la responsabilità di rappresentare una comunità che è quella veneta, che oggi qui vuole dire la sua. La Repubblica non ha dimenticato, così il Capo dello Stato Sergio Mattarella nei luoghi della memoria. Sentiamo. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'interazione dell'uomo con la natura è parte dell'evoluzione della natura stessa, perché l'uomo fa parte della natura, ma non deve diventare nemico. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico, ce l'ha rammentato pochi giorni addietro Papa Francesco con la sua ultima esortazione. Si tratta di saper porre attenzione e saper governare con lungimiranza gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione l'umanità e i suoi destini. L'uomo fa parte della natura, ma non deve diventarne nemico. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questo giorno di commemorazioni. Maurizio Billotto, Lega Ambiente, che monito hanno, ma anche insomma quale significato si può dedurre da queste affermazioni, anche se insomma sono abbastanza comprensibili e semplici? Ma credo che Bayon sia stata la prima strage, tra le altre impunita, perché poi le sentenze hanno di fatto deriso tutti i superstiti. Impunita è la strage proprio dal punto di vista della mala gestione ambientale. Tutti gli allarmi sulla speculazione che si stava svolgendo su quella diga, dalla Tina Merlin, ma agli stessi abitanti e protagonisti di quelle lunghe storie, di quelle tragiche storie, di quegli lunghi anni di lavori e di denunce e di battaglie, non sono stati inascoltati ancora di più poi dal punto di vista giudiziario. Portandola ai tempi nostri non è la prima, non è l'ultima, gli allarmi che lanciamo noi come associazione, ma chi vive i territori di fronte alla crisi climatica, alla situazione che viviamo, alla mancata gestione del territorio, all'assenza di attenzione verso quello che sta accadendo, ogni anno ci racconta di decine di vittime, decine di vittime. Ne abbiamo contato solo per il Veneto, oltre 120 estremi negli ultimi anni, il che significa l'aggravamento e di fronte a questo non abbiamo ancora alcun piano, ripeto, piano di adattamento, abbiamo ancora chi dal governo nega quello che sta accadendo, tant'è che fa caldo e freddo, ci dice un ministro, è normale che ad agosto ci si ritrovi con 30 e passa a gradi, anziché mangiare le calda roste, abbiamo quasi i ciliegi in fiore, ma è normale. Payont, disastro annunciato, si dice a distanza di anni, a proposito di disastri, anche qui insomma si deve accendere ai riflettori su quanto accade sul fronte ambientale, questo mi pare un po' il collegamento che fa lei. Assolutamente, assolutamente, perché se questa memoria è viva ed è una memoria dolorosa per tutti gli abitanti della Valle del Piave, ma lo è anche per una nazione, è altrettanto vivo il segnale che quotidianamente lanciamo su questo, ripeto, l'abbiamo visto come evento tragico e pesante in Emilia Romagna recentemente, ma l'abbiamo vissuto pesantemente anche noi sul nostro territorio. Quindi le azioni che si chiedono sono stare, camminare a fianco della natura e ragionare con lei e non sopraffarla, perché nel momento in cui lei ci presenta il conto, il più debole siamo sempre noi. Grazie a Maurizio Bilotto. Grazie a voi. Per essere stato con noi. Andiamo a Mestre, a una settimana quasi dall'incidente, continuano le indagini per accertare più di una responsabilità, ma continua nel frattempo anche l'incessante omaggio alle vittime. ne siamo stati sul posto. Si esaminano la scatola nera del bus da cui arrivano le prime verità della strage che una settimana fa quasi ha provocato 21 morti e il ferimento di 15 persone nel cavalcavia a Mestre. Molti feriti hanno anche paura dell'accertamento della verità e sarà sicuramente battaglia di risarcimenti. Nella fine settimana molte persone sono andate a recarsi in via dell'elettricità nella zona di Marghera, dove è avvenuta la strage per porre una corona di fiori. Ci sono anche dei pupazzetti lasciati lì per le vittime più giovani dell'incredibile incidente stradale. La procura di Venezia ha accertato che già nel 2021 si stava indagando su quella barriera. Le polemiche però lasciano il tempo che trovano. Si deve ancora capire la causa esatta di questo incidente. I risultati dell'autopsia sull'autista morto nel tragico schianto, unico italiano tra le vittime, è stata secretata. Scende da 9 a 8 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva nei vari nosocomi del Veneto. Dopo la tragedia del cavalcavia, i pazienti in situazione critica passano da 4 a 3. Uscita infatti dalla terapia intensiva. La giovane donna ucraina di 33 anni è trasferita questa mattina dall'ospedale di Treviso a quello di Padova per avvicinarla alla figlia di soli 4 anni, ancora in condizioni critiche, seppur stabili. Si prevede che oggi esca dalla terapia intensiva anche la giovane francese di 21 anni, ricoverata invece a Dolo. All'ospedale di Padova migliorano le condizioni della giovane donna ucraina di 29 anni, fino a ieri in condizioni gravi. Continua a migliorare il paziente tedesco di 33 anni, invece ricoverato a Treviso, le cui condizioni nei giorni scorsi anche qui erano risultate critiche, quindi la fotografia fortunatamente vede un ulteriore miglioramento delle condizioni. All'ospedale di Mestre si registra il continuo miglioramento del paziente ucraino di 39 anni che nei prossimi giorni verrà dimesso dall'ospedale. A quasi una settimana invece dall'incidente in cui ha perso la vita, gli amici e i colleghi camionisti di Nicola e Neaga, l'autista morto sul ponte del tagliamento in una quarta località Ronchi, si hanno avviato una raccolta fondi molto importante per dare sostegno economico alla moglie rimasta vedova e ai tre figli dell'uomo che vivono ancora in Romania. Nicola stava guidando un camion telonato quando è finito contro una bisarca, morendo sul colpo. L'uomo era residente in un comune dell'Interland di Imola, in provincia di Bologna. L'obiettivo dei colleghi camionisti è garantire un futuro proprio ai figli dell'autista che in Romania lascia da sola anche la moglie. Una tragedia della strada anche nel fine settimana a San Michele al tagliamento con i familiari che vogliono vederci chiaro. Potrebbe esserci un concorso di colpa nell'incidente che ha causato la morte di Angelo Campaniero, 82 anni, a Cesarolo all'incrocio via Paris, strada regionale 74. Ne sono convinti i familiari del deceduto. Nell'incidente sono rimaste ferite gravemente anche due persone, mentre altre due erano state soccorse sul posto. Infatti non si capisce come il furgone che stava impegnando l'incrocio sia stato ribaltato forse più volte sulla sede stradale, sotto accusa la velocità di una delle due macchine. Sul posto sono stati chiamati gli agenti della polizia locale del distretto Venezia Est San Michele, Bibione e Fossalta, che devono proprio accertare questo. Oggi Antonello Cirnelli, il medico legale incaricato dalla procura di Pordenone, ha eseguito l'esame esterno alla Salma con il test tossicologico. Angelo Campaniero, originario di Caorle, viveva a Villa Nuova della Cartera, frazione di San Michele, dove aveva comprato 30 anni fa una villa. Era stato albergatore dell'hotel Splendid, poi ha venduto la struttura ricettiva alla famiglia Borin. Ha comprato anche una barca da quell'acquisto, anche se lui aveva un'imbarcazione già precedentemente. Sempre negli anni 90, periodo di grandi cambiamenti, aveva perso il figlio Massimiliano, classe 76, chiamato Momi dagli amici e anche dai familiari stessi. Poi aveva perso anche il fratello Franco, sempre per incidente stradale, sempre nello stesso punto di Marango. Era molto attivo nel mercato dell'antiquariato e faceva mille lavori. La sua vena artistica dipingeva e curava anche le statue antiquarie. L'ha trasmessa al figlio Alex Campanier, notissimo regista e attore teatrale della zona, forse il più importante del mandamento portogruarese, che ha recitato anche in un film tedesco e in un film con Pupi Avati. Proprio in questo periodo Campanier, che si trovava in ferie in montagna ed è dovuto rientrare, stava lavorando per organizzare dei corsi di teatro in tutte le città del mandamento. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Trieste, in seguito all'attacco di Hamas in Israele, ha potenziato il servizio di controllo su tutti quelli che potrebbero essere gli obiettivi sensibili, come la sinagoga, la scuola ebraica, l'attività di vario tipo legate alla comunità stessa. Già in precedenza questi luoghi erano presidiati dalle forze dell'Ordine. a Trieste si trova una delle comunità ebraiche più antiche, numerose e attive d'Italia. Potenziamento dei controlli anche a Venezia, nella zona del ghetto ebraico. Migranti nell'hangar in comina a Pordenone. I consiglieri comunali di opposizione denunciano una situazione di degrado, ma per il comune è stata data una pronta risposta, un rifugio a chi dormiva per strada. Facciamo il punto. Il comune di Pordenone è in attesa del via libera dei Comboniani per spostare i migranti che hanno trovato rifugio nell'hangar in comina in una vera e propria struttura d'accoglienza. Nel frattempo continuano a piovere polemiche sulle attuali condizioni igieniche in cui vivono i richiedenti asilo, in particolare da parte delle consigliere del Bene Comune, Nicoletta De Bellis e Paola Marzinotto, che nei giorni scorsi sono state in visita alla struttura. Abbiamo trovato un degrado assoluto, hanno detto in una nota. Dormono per terra sul cemento solo con una coperta. Ci sono spazi aperti e fessure sulle pareti, solo due servizi igienici all'esterno dell'hangar e una sola doccia senza acqua calda. All'esterno continuano c'è un cumulo di immondizie che emana un cattivo odore. Loro dicono che le accumulano in un mucchio, ma nessuno va a ritirarle. Per l'amministrazione Ciriani, però, l'hangar in comina è sempre stata una soluzione temporanea per i migranti che, non avendo un posto in cui stare, bivaccavano per le strade e per i parchi della città. È stata una risposta concreta a un problema che stava montando. Poi c'erano le piogge e le cose, quindi almeno si sta all'asciutto. Ci sono tre bagni, due e uno in arrivo. Non so se è arrivato nel fine settimana o meno, ma insomma è stato chiesto. C'è la possibilità di caricare i telefoni. È vero, ci sono degli orari in cui si accende, perché lì c'è un generatore che va. Ci sono i passi caldi, ci sono i bidoni delle immondizie che se ne dica. I bidoni della GEA ci sono e quindi è una situazione che non è l'ottimale, ma è una risposta pronta e, ripeto, all'insegna della concretezza. Quando verrà aperta la struttura dei Comboniani si chiuderà quello, perché effettivamente non ha le caratteristiche per diventare un dormitorio. Domani ci sarà un vertice in prefettura dove si discuterà sulle prossime mosse per aiutare la cinquantina di migranti che usano l'hangar come rifugio. Per l'assessore Ceolin l'intenzione continuerà ad essere quella dell'accoglienza diffusa tra tutti i comuni. Secondo quanto riferito dall'esponente della giunta Ciriali, la soluzione, sebbene temporanea e non ideale, sembra essere stata accolta favorevolmente dagli stessi migranti. Devo dire, da quello che mi hanno detto, mi hanno riferito gli agenti della polizia locale, a me sembra che siano abbastanza anche contenti. Dopodiché il fatto che non sia un albergo, che non sia una casa, che dal fuori possa sembrare tanto male come sembra a quelli del bene comune, beh, scusa, i parchi come stavano. Gioca in borsa 25 mila euro, una cifra ottenuta grazie a un finanziamento dedicato alle imprese in difficoltà per il Covid. Ma è così che un imprenditore, oltre ad essere scoperto, alla fine venne anche denunciato. Utilizza la somma di 25 mila euro dedicata alle imprese in difficoltà per Covid e la gioca in borsa. Per questo un imprenditore trevigiano, attivo nel settore del trasporto merci su strada, è stato denunciato per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, un illecito punito con la reclusione fino a quattro anni. L'uomo, secondo quanto ricostruito dal comando provinciale delle Fiamme Gialle, aveva percepito la somma arrivata grazie al famoso decreto liquidità, volto a garantire prestiti delle banche per quelle aziende in crisi con aumento dei debiti causati proprio dalla pandemia. Analizzando il conto corrente su cui è stato accreditato il finanziamento garantito dallo Stato, la Guardia di Finanza ha scoperto che quasi tutto l'importo, anziché essere impiegato per carenza liquidità e pagamento fornitori, così come dichiarato dall'imprenditore, è stato trasferito su un rapporto bancario intestato al coniuge per poi essere utilizzato per l'acquisto di azioni di una primaria banca. Gli elementi acquisiti hanno indotto la Procura della Repubblica di Treviso a notificare all'imprenditore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto prodromico alla successiva richiesta di rinvio a giudizio. Edilizia scolastica in Friuli, Venezia, Giulia, in arrivo, nuovi interventi. Si tratta sempre di un tema molto attuale per gli enti pubblici, ovvero l'aumento dei costi relativi ai cantieri. In questo caso parliamo di scuole su tutto il territorio regionale, sono scuole che sono state premiate nel 2021 e nel 2022 con dei bandi della Regione e cui la progettazione è in fase molto avanzata. I maggiori costi pesano per circa il 15% del quadro economico approvato. Abbiamo 38 milioni e mezzo che possiamo stanziare in modo tale da garantire a tutte queste 18 scuole di poter continuare con la propria attività. Siamo da Villa Santina a Pordenone, da Alzano Decimo a San Daniele, Gemona, Codroipo e poi ci spostiamo anche a Fogliano Re di Puglia per garantire dai 100.000 ai 600.000 euro in più nei quadri economici e poter realizzare finalmente scuole dalle materne, elementari e alle medie. Rilancio della pesca, il flag veneziano punta a oltre 3 milioni di euro provenienti dai fondi europei per il comparto. Oggi la presentazione a Portogruaro nella sede del Vegal. C'era per noi il collega Rosario Padovano. Siamo in compagnia di Antonio Gruttardo, riconfermato presidente del flag veneziano. A Portogruaro è stata presentata presso la sede del GAL di Via Cimetta il piano di azione locale per la nuova programmazione europea fino al 2027. Nei prossimi giorni il presidente Gottardo alla regione Veneto verrà consegnato il dossier praticamente per sostenere le imprese del territorio e del compartimento marittimo di Venezia. Oggi annunciamo anche l'ingresso di due nuovi partner. Consegneremo alla regione il piano di azione, il dossier per il settore itico per i prossimi sette anni. Siamo lieti che nella compagine sia entrato sia il comune di Venezia che la città metropolitana. Una compagine bella, robusta, fatta da enti locali, tutti gli enti locali, la camera di commercio, tutte le associazioni di categoria, l'organizzazione produttori bivalvia, l'organizzazione produttori fasolari. Un gruppo robusto, importante, che può affrontare le sfide dei prossimi anni con vigore ma anche con la fiducia nel piano d'azione del flag veneziano. Il piano d'azione locale per questa programmazione, che chiaramente attingerà dai fondi europei, a diversi progetti in cantiere. Possiamo citare quelli più importanti? Le azioni. Le azioni sono rivolte all'attività di diversificazione delle attività produttive in Laguna di Venezia, al connubio tra pesca e turismo, ai progetti di trasformazione e anche a come affrontare il tema del granchio blu delle specie aliene. Cioè, da vincolo opportunità, sì, come fare con degli investimenti anche infrastrutturali per cercare di trasformare il granchio blu nella polpa, che può essere gestita in maniera diversa dal prodotto fresco. Luca Michelotto, presidente di ASVO SPA, ben ritrovato. Parliamo di turismo e sostenibilità, presidente, perché si chiude l'estate però si è fatto il punto del G20S, tutte le realtà della costa e anche non solo Venete. Come è andata e anche quali le sfide per il futuro? Sì, molto bene. Abbiamo avuto questo importante summit dei sindaci delle realtà turistiche del Veneto. Tra l'altro ci hanno invitato, abbiamo detto anche la nostra, eravamo tra i relatori nei tavoli di lavoro organizzati, noi eravamo nel tavolo della logistica e della sostenibilità, perché è un tema che ci interessa molto. È stata una giornata molto importante, ci siamo confrontati con molti primi cittadini. In realtà ricordiamo che ASVO, che fa parte del gruppo Veritas, di fatto gestisce la raccolta di rifiuti, lo smaltimento di quasi la totalità delle spiagge del Veneto, perché escludiamo Porto Viro e Rosolina, insomma tutte le altre spiagge sono fatte da Chioggia fino a Eraclea Mare, da Veritas e come voi sapete bene, caro Levi Bione, per quanto riguarda ASVO appunto del gruppo Veritas. Dunque di fatto il bacino Venezia Ambiente di fatto fa la gran parte del lavoro sulle spiagge del Veneto e dunque quelle della provincia di Venezia sono quelle che fanno le maggiori presenze, che tra l'altro sono circa la metà delle presenze turistiche del Veneto, dunque un segnale molto importante. E dunque il tema che si è affrontato è quello della sostenibilità, sostenibilità anche rapportata alle difficoltà che queste aziende eravamo, noi di ASVO c'erano anche i responsabili delle aziende di trasporti del ritorale, la difficoltà che si incontra a tenere alta la sostenibilità e il lavoro per avere la sostenibilità ambientale, dunque un recupero adeguato, una giusta differenziata, un giusto smaltimento, con la difficoltà che oggi incontriamo in questi anni qua, e l'abbiamo già detto spesso nei vostri studi, la difficoltà a trovare personale che lavori le nostre aziende. Insomma oggi il tema non è più cosa faccio, ma con chi lo faccio. Con chi lo faccio, neanche come lo faccio. Ho i soldi per farlo, voglio farlo, ma con chi lo faccio? Questo è il tema nuovo, un tema che ci pone anche a ripensare alcune scelte e a riprogettare alcuni servizi che per oggi hanno dato dei buoni risultati, penso per tutto il porta a porta, ma il porta a porta è chiaro che il porta a porta spinto addirittura richiede molto personale, perché devi andare a recuperare rifiuti casa per casa. Si sta pensando a nuovi sistemi, ad esempio il gruppo Vertas su Jesolo sta progettando delle stazioni travaso e delle isole ecologiche interrate, dove di fatto un'area, un quartiere può andare a conferire rifiuti e lì chiaramente con pochi mezzi riesce a recuperare molti rifiuti. È un'ipotesi fattibile? È un'ipotesi fattibile, ha costi molto elevati, insomma il comune di Jesolo, ne ho parlato proprio col sindaco al Summit, sta lavorando su questo, insieme con la capogruppo, con Veritas, sono impianti, una stazione travaso comunemente di una media portata a un investimento attorno a un milione, un milione e duecentomila euro, dunque investimenti importanti. Per il portoguarese? Per il portoguarese stiamo ragionando su Caorle, in questo momento qua su Caorle potrebbe essere nell'area centrale, dove c'è proprio difficoltà oggettive ad avere bidoni e anche averli fuori in tarda serata, per quanto bravi siano i commercianti a buttarli fuori alle undici, comunque è un impedimento alle undici di sera, perché poi alle cinque di mattina i nostri mezzi arrivano. Dunque l'idea di porre nelle aree vicino al centro storico di Caorle, al centro storico, dunque Rio Terai in modo particolare, parlo per chi conosce Caorle, delle isole interrate sarebbe molto interessante perché potrebbe rispondere a delle esigenze che in quel territorio ci sono. Chiaro, chiaro, chiaro. Su questo poi, sulla mancanza di personale invece come avete fatto a superire? Perché c'erano stati dei problemi, ne abbiamo parlato qua. Sì, ricordiamo un po' le nostre difficoltà che abbiamo avuto, abbiamo chiuso comunque con quasi 13 persone in meno, sia nei cantieri di Bibione che nei cantieri di Caorle, abbiamo portato fuori l'estate, un'estate che grazie al meteo continua fino a qui, alle prime settimane di ottobre, ce l'abbiamo fatta, chiaramente abbiamo avuto alcuni disservizi, abbiamo eseguito alcuni servizi in perfetta sintonia come facevamo negli anni scorsi, se una stava veniva spazzata dopo due giorni, questa stava veniva spazzata dopo tre giorni perché purtroppo il personale mancava, alcuni bidoni dell'umido non hanno avuto la giusta pulizia, alcune contestazioni sulla pulizia dei bidoni dell'umido, però purtroppo, ripeto, i servizi essenziali dovevamo garantirli che era la raccolta dei rifiuti e su quello mi pare non ci sono stati problemi né a Caorle né a Bibione, dunque stiamo già lavorando con molte speranze, con molte, molte, molte speranze per acquisire nuove figure all'interno del gruppo Veritas, dunque già l'ufficio personale del gruppo Veritas e l'ufficio personale di ASO stanno lavorando a braccetto per iniziare a reperire le risorse sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per l'estate 2024 e confidiamo di riuscire a portare avanti in maniera degna, dignitosa e secondo me anche efficace, efficiente l'estate 2024 che abbiamo fatto nel 2023. Grazie Luca Michelutto. Grazie a voi e buona serata. Per essere stato con noi. Andiamo a Pramaggiore dove sono stati annunciati i prossimi lavori che riguardano il palazzo della mostra nazionale dei vini. Sentiamo il sindaco Fausto Piretta. C'è un eterno progetto che però sta volgendo al termine per quanto riguarda la prima parte. È già stato approvato un primo progetto che vedrà luce nei primi mesi del 2023 e vedrà coinvolto il primo lotto di questo palazzo con la ristrutturazione e l'adeguamento anche energetico dello stesso, l'ammodernamento. Quindi poi passeremo nella parte dove sono siti tutti gli uffici amministrativi per poi andare a concludere con la parte della sala convegne e cucine. Edificio che è la sede storica della mostra nazionale dei vini che ricordo essere la mostra nazionale, nonché il concorso neologico più vecchio d'Italia, ma anche di tutto quel grande veicolo che sono i nostri vini, il nostro prodotto della terra che grazie alle aziende e alla loro grande duratura e esperienza nel divulgare la loro qualità, la loro specifica preparazione dei prodotti sta avendo sempre più successo anche fuori soprattutto del territorio italiano. Sport, la pallavolo motta superato per 4-0 in casa, il volley team Sandonani è l'ultimo test amichevole prima dell'avvio della stagione. Si trattava di una gara molto attesa poiché è disputata contro una rivale storica ma anche contro una rivale dello stesso girone del torneo di Serie A3. Sicuramente è stato un test esaltante, ha detto il direttore sportivo Alessandro Carniel, la squadra è pronta per l'avvio del torneo. Anche la Tinet Prata invece ha terminato il precampionato con una bella prestazione a Trento al cospetto dei padroni di casa del Trentino Volley. I ragazzi di Dante Boninfante, Samuele Papi hanno ottenuto una bella vittoria per 3-2 in 5-7 tutti giocati ai 25 punti. Finito il periodo di test appunto, si inizia a pensare alle partite che contano, la prima sarà quella di sabato alle 20.30 contro il Volley Tricolore Reggio Emilia alla palla Crisafulli di Pordenone. Mondiali di Beach Volley, Alex Ranghieri passa il turno classificandosi al secondo posto nella fase ai gironi in Messico. dopo la sconfitta al terzo set contro Seidel e Plistautz nel secondo match della Pool E. Per gli azzurri la scorsa notte è arrivato il successo al tiebreak contro l'altra coppia austriaca formata da Julian Orl e Alexander Horst. Una vittoria preziosissima e decisiva che appunto sono coppia numero 6 del ranking mondiale. Dunque una vittoria importante quella per Alex Ranghieri. Cambiamo argomento, successo per la fiera libraria al Castello di Susegana. C'è stata anche la visita del presidente della regione Veneto Luca Zaia a Book Week, la rassegna di libri del Castello di Susegana, in programma dalla 6 all'ottobre scorsi. In provincia di Treviso c'erano anche libri in cantina all'insegna del futuro giovane. Zaia è rimasto incantato dalla cornice del Castello di San Salvatore dove i libri sono stati ospitati grazie all'interessamento di varie case editrici provenienti da tutta Italia. Lo scenario tra l'altro è stato molto incantevole, soprattutto al tramonto. Tra l'altro ci sono stati degli spettacoli teatrali che hanno convinto molte persone a interessarsi a quello che accade a Susegana, dove si respira la storia del Medioevo. La rassegna è stato un grande successo, soprattutto di pubblico. Salire al Castello non è semplice, ma tutta la cittadina di Susegana ha tratto vantaggi da questa incredibile rassegna in un paesaggio stupendo tra le colline più belle del mondo. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo a seguire le notizie dei colleghi nazionali di Italpresso. Un bel documentario dedicato alla tragedia del Vaillant, oggi che ricorrono i 60 anni e poi da non perdere come sempre il film alle ore 22. Rimanete con noi, la programmazione continua. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS